Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del Tempio. Vide anche una vedova povera che vi gettava due monetine e disse «In verità vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato più di tutti. Tutti i costori, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella, invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere». Parola del Signore. Sialo dato, Gesù Cristo. Settimana scorsa, dal lunedì al sabato, La liturgia ci ha presentato tutti i giorni una lettura tratta dal Libro dei Maccabei. Abbiamo visto diverse vicende molto interessanti presenti in questo testo sacro. Questa settimana, la liturgia, invece, ci presenta il Libro del Profeta Daniele, Libro altrettanto interessante per altri aspetti. Quest'oggi abbiamo ascoltato, come prima lettura, un brano del primo capitolo del Libro del Profeta Daniele. Sono stati presentati questi giovani israeliti, Daniele, Anania, Misaele e Azzaria. Quattro ragazzi che fanno la differenza. Quattro ragazzi assolutamente uniti nell'osservanza della legge. Quattro ragazzi che diventeranno di fatto i più importanti del regno oltre a subire delle persecuzioni mortali tremende. Verranno gettati nella fornace ardente, nella fossa dei leoni, insomma, succederà di tutto di più a questi quattro. Ma nulla li potrà colpire, come dice il Salmo. Tutte le volte loro usciranno indenni. A differenza del Libro dei Maccabei, dove abbiamo visto figure come Leazzaro, dove abbiamo visto figure come la madre dei sette Maccabei, che vengono uccisi e muoiono per onorare la legge di Dio, nel Libro del Profeta Daniele, invece, vediamo quattro ragazzi la cui fedeltà viene riconosciuta, viene apprezzata da Dio attraverso degli interventi miracolosi di Dio dentro a queste medesime persecuzioni terribili che gli capitano. Tutto questo unito a una grandissima sapienza. Daniele, soprattutto, sarà poi quello che salverà la casta Susanna, sarà poi quello che interpreterà i sogni, lo vedrete o lo vedremo in questi giorni, in queste letture, la famosa mano che appare nel Salone del Re che gli scrive le tre parole, Mene, Techele, Peres, che c'è il mondo da dire su queste tre parole. E oggi li vediamo all'inizio di questa loro esperienza, un'esperienza molto importante, un'esperienza di esilio, un'esperienza di prigionia, dentro la quale, però, loro ci mostrano che è possibile e doveroso continuare ad essere fedeli a Dio. Noi che tante volte ci mettiamo a criticare, critichiamo lo Stato, quante volte si sente criticare lo Stato, i governanti, spesse volte si sente criticare la Chiesa, si sente criticare un po' tutti, no? Questi quattro ragazzi non criticano nessuno, non sono queste lagne continue che hanno sempre da dire qualcosa su qualcuno e che hanno sempre da mostrare quanto il male si diffonde. Ma è chiaro che il male si diffonde, se no non sarebbe il male, è il male come il bene, è diffusivo e pervasivo. È chiaro che si diffonde, è chiaro che il male fa il suo compito, fa ciò per cui c'è. Ma che cosa serve? Fare polemiche su polemiche su polemiche? Cosa serve fare critiche su critiche su critiche? Cosa serve continuare a mettere il dito lì, a far vedere questo non va bene, questo è sbagliato? Ma lo sappiamo. Oggi nel frattempo soffiarti il naso che hai già giustato su internet. Quindi si sa, no? È inutile continuare a star lì. È invece molto più utile imparare da questi quattro ragazzi che cosa? Che il cambiamento, il miglioramento, avviene innanzitutto a partire da te e dalla tua compagnia. È da lì che avviene. Il bene sorge dal tuo cuore, non dalle critiche, non sorge dal continuare a mostrare il male da tutte le parti, non sorge nel stigmatizzare Tizio Caio Semprogno, non sorge da lì. Il bene sorge dal fatto che tu sei fedele a Dio, tu e coloro i quali tu hai accanto, che sono i tuoi amici, che sono i tuoi fratelli, che sono le persone con le quali tu maggiormente ti unisci per osservare la legge di Dio. Da lì parte il tuo bene e il bene del popolo. Infatti, proprio già da adesso, vediamo come questi quattro ragazzi incontrano per volere di Dio la benevolenza del capo che li aveva in custodia e che li esaudisce. Loro cominciano da subito a essere diversi. Sapete, i diversi non piacciono a nessuno, no? Sappiamo benissimo. Quando uno comincia a fare il diverso, già a noi ci si arriccia il naso. E loro cominciano ad essere diversi perché sono diversi, perché non possono, ma soprattutto non vogliono, avere a che fare con gli alimenti del re. Non gli va. Loro vogliono continuare, vogliono mantenere una distanza, una differenza, un'appartenenza che passa attraverso anche l'alimentazione. Se avremo tempo, cercheremo anche di approfondire l'importanza dell'alimentazione. Vogliono mantenersi altro. E loro lo dicono. Dicono, noi non vogliamo queste cose. Cominciano a distinguersi. E nonostante non incontrato una benevolenza, questo capo delle guardie dice, sì, va bene, io lo voglio anche fare, però ho paura. Ho paura che, secondo il vostro desiderio, poi voi mi dimagrite perché mangiate solo legumi, poi voi vi tirate tutti, il re vi vede e dice, ma come? Tutti gli altri sono bellissimi, questi qui sono magri, stinchi come non so che cosa, sono lì che sembrano dei morti. E come mai? Come mai? Mangiare uguale per tutti? E quello avrebbe dovuto dire, no, ma in realtà questi non lo mangiano, vogliono i legumi. Lui gli avrebbe detto, ma chi ti ha detto a te, io devo dargli a mangiare i suoi legumi, lui deve mangiare quello che mangiano tutti. E avanti, no? Quindi aveva paura, aveva ragione di avere paura. E allora Daniele sapientemente dice, beh, facciamo una prova. Cosa vuol dire facciamo una prova? Ma, sapete, può voler dire anche questo. Vediamo se Dio è d'accordo con questa mia intuizione. Perché, sapete, non è mica detto che quello che io intuisco venga dal Signore. vediamo. Magari no, o magari sì. Facciamo una prova. Per quindici giorni, per dieci giorni, noi mangiamo queste cose qua. E tu poi vieni a vederci cosa vedi. Guardalo tu, che non c'entri niente con il nostro Dio, che non c'entri niente con la nostra fede. Tu guardaci proprio fisicamente. Vediamo cosa succede. Daniele aveva visto giusto. Il Signore era dalla loro parte. sosteneva questa idea di mantenere la famosa verginità del cuore di cui tanto spesso vi parlo. Dio era da quella parte lì, voleva che andasse così. E infatti, quando li guardano, li vedono più belli di tutti gli altri. Certo, perché il Signore benedice sempre questa diversità voluta e operata per manifestare un'appartenenza. Il Signore non ama la diversità in quanto diversità. Ma il Signore ama la diversità in quanto appartenenza. Ricordate il popolo di Israele. Voi siete un popolo diverso. Voi siete un popolo santo. Voi non siete come gli altri popoli. tanto che Dio non gli voleva dare il re. Sono loro che lo vogliono e da lì arriveranno tutte le disgrazie del mondo. Perché Dio diceva io, io sono il vostro re. Voi non avete bisogno di un re. Sono io, ci sono io, sono Dio. Voi non dovete guardare gli altri, dovete guardare me. E noi cosa impariamo da queste esperienze di questi quattro giovani? Noi da queste esperienze di questi quattro giovani impariamo che innanzitutto è importante essere in quattro, cioè è importante essere una compagnia. Innanzitutto impariamo che è importante essere insieme. E invece oggi c'è questo stile di una fede molto molto personalistica che un tempo non era così. Quando faremo la medaglia miracolosa, il 27, daremo la medaglia miracolosa, qualcuno mi ha detto ma padre, gli anni scorsi per la preparazione della medaglia miracolosa facevo le umilie e solo sulla medaglia miracolosa ci preparava. E quest'anno invece ho pensato di prepararvi la medaglia miracolosa commentando proprio la parola di Dio del giorno, soprattutto dell'Antico Testamento che è così tanto snobbato e maltrattato. Cioè, capite, portare la medaglia miracolosa vuol dire far parte di una compagnia, vuol dire che io mi riconosco come colui che vuol fare della Vergine Maria un modello, un modello, un modello dell'essere discepolo di Gesù, un modello dell'essere lancella del Signore. Io voglio fare della Vergine Maria questa mediatrice, cioè, è come se io volessi stare alla sua scuola, averla come maestra. Porto la medaglia miracolosa per dire questa appartenenza che io vi dico sempre, quella medaglia non si porta nel portafoglio, non si porta nascosta, o la porti bene o non la porti. Cosa vuol dire che la porti bene? Ma vuol dire che deve essere una testimonianza anche per gli altri, anche gli altri la devono vedere. Tutti hanno visto il loro viso bello, rigoglioso, fresco, pieno di vita, tutti l'hanno, perché gli altri hanno bisogno di vedere. Abbiamo i sensi, deve passare tutti i sensi. Hanno bisogno di vedere questa bellezza. La medaglia è bella e se tu la porti con onore tu devi essere bello. La bellezza che viene dalla grazia di Dio, questo non contaminarsi con le vivande del re, vuol dire in ultima istanza non contaminarmi con tutto ciò che viene dal mondo, con tutto ciò che ha la logica del mondo, ma vivere solo secondo la logica della legge di Dio. È questa legge di Dio che diventa come dire il grande conforto, il grande sostegno nella mia vita di fede, la grande difesa. Non è quella roba che vogliono far passare oggi quella cosa oppressiva che ti vieta, che ti limite la libertà, ma è tutt'altro. è un segno di appartenenza. La circoncisione aveva questo significato, ma con l'avvento di Gesù San Paolo dirà non serve più la circoncisione, perché c'è Gesù, perché c'è la vita di grazia, perché c'è il battesimo, non serve più quel segno della carne, la nostra certezza sta nella fede in Gesù. la nostra certezza sta nella fede in Gesù mediata, purificata dalla Vergine Maria insieme. Non dimentichiamo mai questa connotazione insieme, i quattro giovani e saranno sempre insieme. Voi li vedrete lungo questa settimana, li vedete sempre insieme e vedete la scrittura quante volte lo ripete? C'è una lettura addirittura dove lo ripetono in continuazione e sembra un ritornello, una litania, perché vanno nominati sempre insieme, perché sono una cosa sola e la preghiera sacerdotale di Gesù Utunum Sinte capitolo 17 di San Giovanni affinché sia una cosa sola, quella è la testimonianza che io voglio che voi diate al mondo che dice che siete i miei discepoli il fatto che siete uno, il fatto che vi muovete come un corpo che dice questa unità stretta. Infatti non ha molto senso venire a ricevere la medaglia mercoledì 27 da soli. Infatti vi chiedo, avete fatto l'apostolato? Se tendete a cercare qualcuno, gli avete detto la bellezza del portare la medaglia miracolosa e avete detto vieni, vieni con me che ti porto a riceverla, l'avete fatto? O stai lì come i gigioni che perdono il tempo a guardare le candele che fumano e star lì a fare le loro preghiere, la loro fede, le loro cose, le loro piccole, piccole meschine attività religiose. Ma non è questo lo zelo apostolico che ci insegna il Signore che vuole la Madonna. Il Signore è morto per le anime, per salvarle anime e noi stiamo lì a pensare alla nostra piccola fede. Dobbiamo essere apostoli, dobbiamo andare a parlare, a portare la bellezza dell'appartenere a Gesù mediante la Vergine Maria. Guai se venite da soli al 27? Dovete venire assolutamente con una persona insieme perché dovete testimoniare la bellezza. Pensate, se voi aveste, voi avrete accanto una persona in più, pensate quanti saresti. Pensate se ogni anno aveste portato una persona in più. Che non è una banalità, è una persona alla quale tu fai fare l'esperienza dell'appartenere a Gesù attraverso la Vergine Maria. Perché quella medaglia poi ognuno la sente come un peso, è un peso importante da portare perché tu sai che ce l'hai sul cuore e sai che quei due cuori poggiano sul tuo cuore, che quei due cuori chiamano a qualcosa. Ecco, allora chiediamo a questi quattro giovani, Daniela, Anania, Misele, Azzaria, chiediamo loro la grazia di comprendere la bellezza della compagnia, della compagnia cristiana, dell'essere cristiani, del muoversi insieme e soprattutto dello zelo apostolico che nasce da cuori profondamente virginali. Siero dato, Gesù Cristo. Gesù Cristo. Gesù Cristo. Gesù Cristo. Gesù Cristo. Gesù Cristo. Gesù Cristo.